E' romana i capelli biondi e un corpo perfetto dell'ultima gaff in carne e ossa delle forze armate italiane che in piena guerra Russia-Ucraina e il terrore generale di un conflitto mondiale si ritrova sulle prime pagine dei giornali per l'iniziativa del circolo ufficiali di Via 20 Settembre che a quanto pare per attirare un pubblico più giovane ha pensato bene di organizzare a conflitto appena iniziato uno spettacolo di burlesque con loghi militari in bella vista. Gaff, in dubbia, ma è anche giusto rimettere i tasselli al loro posto e per farlo intervistiamo Daisy, la protagonista di questa vicenda che non è di certo una spogliarellista, come banalmente qualcuno ha provato a dire ma una ballerina, un'artista di fama internazionale che quella sera svolgeva il suo lavoro dopo due anni di pandemia e di stop forzato. Cosa hai pensato quando hai letto il tuo primo articolo sul giornale? Ho pensato che fosse stato un po' strumentalizzato perché una tale risonanza in un momento di guerra credo che sia un po' esagerata. Tu sei una ballerina di burlesque professionale, anzi diciamo forse la più conosciuta italiana nel mondo. Sì, sono l'unica italiana nella storia ad aver vinto un titolo mondiale a Las Vegas. Ci sono rimasta molto male per aver letto che si facevano i festini come quelli con Berlusconi perché io mi sono esibita, non ho partecipato a nessun tipo di festino e la mia retribuzione era da artista, non da accompagnatrice e quello è un altro lavoro che rispetto assolutamente ma non è il mio. Dopo due anni di pandemia noi in Italia siamo stati praticamente dimenticati da tutte le istituzioni per cui eravamo davvero felici ed ero davvero felice da lavorare ad altre dieci persone, altri dieci artisti come me su quel palco. Ovviamente il momento è stato quello che era ma noi avevamo un contratto da rispettare. L'artista ha fatto l'artista e continua a fare l'artista ma tu fossi stata il direttore del circolo o un ufficiale dell'esercito avresti organizzato uno spettacolo di burlesque a due, tre, quattro giorni dall'inizio della guerra? Allora se fossi stato io il direttore probabilmente no, nel senso avrei organizzato lo spettacolo di burlesque e l'avrei spostato. Se della questione sull'opportunità di fare spettacoli in tempi di guerra, sebbene la storia strabordi di esempi contrari si può discutere più spiacevole ogni tentativo di censura sia che riguardi un balletto sia che riguardi Dostoievski peggio se argomentato con luoghi comuni sessisti rivolti ad una ballerina.